Siamo qui con il signor Francesco Falciani, responsabile della concessionaria Autosass della Ford. La prima domanda è come le sembra questa prima giornata dell'All-Star Game di Firenze sulla situazione qui in una location veramente particolare e privilegiata per il basket fiorentino e quindi cosa le sembra di questa prima giornata? Diciamo, le prime impressioni sono estremamente positive. Vedo tanto pubblico, soprattutto giovani, questo ci fa molto piacere. Il luogo è esclusivo, è bellissimo, Piazzale Michelangelo è conosciuto in tutto il mondo, poi Firenze è una città spettacolare e come fare noi a non essere in un evento del genere? Quindi è per questo che abbiamo deciso di essere lo sponsor principale della manifestazione proprio perché ci faceva molto piacere incontrare tanti giovani e far vedere anche i nostri nuovi modelli che hanno tanto come tecnologia soprattutto per i giovani, rivolte ai giovani. Ecco, per questo proposito ci sono anche delle macchine in esposizione durante l'All-Star Game tra cui anche una in esclusiva se non sbaglio. Esatto, qua su abbiamo portato esclusivamente tre auto. Una è una Mustang, questa qui esposta è un 5.000, ma c'è il 5.000 e una motorizzazione 2.3. Sono entrambi macchine che hanno in questo caso più di 450 cavalli, nel caso del 2003 si rimane poco sotto i 400 cavalli. Abbiamo portato in esclusiva la Ford Edge che è questa qui che vedete dietro a voi, dietro alle spalle e poi abbiamo portato il nuovo modello di EcoSport che ancora deve debuttare anche questo sul mercato italiano. Quindi diciamo due novità e un'icona che è la Mustang. Quindi poi abbiamo comunque un pubblico molto variegato che si affaccia sicuramente al piazzale Michelangelo per curiosità, per vedere questo playground installato qui in esclusiva. Ci sarà sicuramente anche questo forse delle ragioni della sponsorizzazione per l'All-Star Game. Sicuramente ci saranno molte persone che si affacceranno e vedranno anche queste macchine esposte. Ma non c'è dubbio perché a parte questa manifestazione anche sui social ha avuto molto riscontro. Quindi ripeto il fatto che è così frizzante a vederla si capisce anche dal fermento che ha creato su internet, sul web, sui vari appuntamenti dati. La serata è frizzante, ripeto la cornice è esclusiva, abbiamo di tutto. Qui volendo potete venire a cena, mangiare un gelato, vedervi tre novità di macchine e godervi in ogni modo tutte le partite. Con anche poi la possibilità, ricordiamoci, di finalità benefiche con la fondazione Tommasino Bacciotti. Quindi ripeto, volentierissimo e tutte le volte che ci sono queste manifestazioni troverete sempre Autosassa accanto.